e poi più tardi quando noi siamo diventati artisti che è diventato nostro mistero per noi, c'è una evidenza per a gente è appena meno per esempio un artiste si vede si baga per la prestazione e anche oggi quando è volte, ne ho badrizza a gente dice quando è boba arti da iuga bi baga nuvi adio ma dice, beh e poi ci baga nuvino ah bo? è sostunato allora, sapete che abbiamo abituato male? a gente perché diciamo allebiga a uservizio di una causa e come ho detto oggi non siamo a uservizio di nizuno di in onda siamo liberi liberi di creare e questa creazione bella sigura porta assai a tutti a gente a Gursi che è poi a un mondo forse per io appena ciò che la dice a Patrice ciò che ne ho mentato è che ho fatto davanti a un teatro mili dente e l'abbiamo fatto perché dopo abbiamo partecipato all'epica con l'Albino quando abbiamo serato e mili dente dopo verrà niente infatti l'evoluzione ha avuto il fatto che ne abbiamo fatto noi il nostro mistero ma niente non capire mica di facci bagare e come potiamo ma perché campare e poi campare quando vai al teatro e io perché c'è un lavoro un aspetto è molto mica che è un lavoro e c'è un lavoro di bagare l'entrata di un nostro brobio spedagolo per parte di là e questo è importante padridia e beh sta qui invece di va passe bene pensate quantunque cacciamo una malintesa e quantunque un progresso non parla di noi, di un mondo, di un diagro, di tutta l'arte, che sono misteri, che domandano di una ragione, di un mondo normale, non c'è qualcosa che diceva sempre, per forza, è vero che c'è stata una transizione in due aliente, come l'aminta, a un abadriso. e oggi e anche di grazia che l'esiste perché è questa che porta che porta diciamo come posso dire questa che porta che faccio un pannello più grande di aggrazione e quando dico professionale nel senso è campo di sarte e certe volte i professionali non sono mica meglio che quelli che sono amatori perché infatti l'aggrazione che è portata e parlo a tutti i livelli c'è bene che oggi sia un pannello così grande di gente che scrive, che canta, che gioca, che suona perché ci permette anche per noi che campiamo di sarte qui ci permette di fare un'evoluzione di poter e lavorare con altri e volare e si può rimarcare che da un momento che noi siamo provisionalizzati è muvato e che è ugento da Gorsica e conoscendo il mondo usano. Sa libertà ha permesso di andare assai più lontano del mondo. E dunque si tratta di da pagia diceremo a complessità della società di beta da questa visione appena stereotipica che avevamo aumentato prima, la complessità della società e poi dopo la specializzazione di differenti, al di là della professione, si potrebbe parlare dei roli sugiani. Ciò che fa è che è una società complessa, in un momento dato ha bisogno di organizzarsi i settori che siano performanti per poter andare a una produzione come quella che tu diceva, una produzione che si può esportare, una produzione che si può accresce, approfondire, arricchire, ha bisogno di strutture, ha bisogno di strutture solide, un po' mica essere lasciata così all'improvisata permanente e alla disponibilità di questo o quello, anche se non si deve mica stantare, diciamo, l'iniziativa di un insieme esogiale che deve essere sempre libero e poi dopo c'è la libertà dell'individuo. No, io dunque sono contenta assai di aver inteso ramentare il suo affare questo, di vedere che in dei voi non c'è mica nostalgia, quindi è una fara, ovviamente se c'è una nostalgia di una nostalgia più di sorriso, di tenerezza, che di ramarico, non sento mica, non sento mica agro. E io mi dico, che siamo stati fortunati, proprio fortunati, diciamo, a questa stanza di lui. E dunque... ciò che ci voleva realizzare, ma forse avremo un altro momento, di una piccola lettura di desti che va di giardine per usare. Grazie. Grazie.